Da settimana scorsa c'è stato il grande ritorno, da una casa all'altra, della nostra Maga Flo. Buongiorno! Buongiorno ragazzi! Buongiorno, appena svegliata? No, non sono appena svegliata, mi sono svegliata molto prima. Ovviamente per sentire voi ho bisogno prima di esercitarmi. Brava, e come ti eserciti Maga? Eh beh, non solo con la voce, Leandro. La nostra Maga Flo alias Floriana Messina che ogni settimana ci dice qual è il segno top e il flop della settimana. Ho ripetuto settimana per caso? Esatto! Oggi cosa ci dici? Allora, questa settimana segno super top per il toro. Grazie a Marte Zove di ottimo aspetto. Sì? Vi sentirete carichi e vogliosi di provare qualcosa di veramente eccitante. Andiamo, vai, viva i toro! Torero! Quindi, invitate due vostre amiche a casa. Due! Sì, due. Due amiche? Due, tre. E una volta arrivate, preparatelo al meglio. Che cosa? Come, 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 come? Il vostro apri bottiglio, ovviamente. E riempite la vostra vasca di champagne. Pure! Sì, non evitate a strapparle ai vestiti di dosso e farle entrare dentro. Dove? La vostra jacuzzi o jacuzzi. Ah! E quando è l'eccitazione latica, fateglielo assaggiare entrambe. Entrambe? Esatto, utilizzando il mio calice da magnum riserva. Stiamo parlando sempre di champagne? Eh, sempre sì. Eh, mi stai sì. Beh, ehm... Cioè, per andare con una donna devi sprecare 20.000 euro di bottiglia. Vabbè, c'è champagne e champagne. Quello del discount! Lo spumante del discount, va bene. E' bello perché tutta la sua sensualità esce fuori quando dice... Cioè, champagne e champagne. Champagne, per brindare un incontro. Vabbè, è vero, scusami. Ovviamente è magnum, però. Eh beh, certo. Ma che è sto soffio? C'è un po' la sistola che sta partendo, eh? Cara Magaflo, invece il segno flop qual è? Il segno flop è scorpione. Ai, 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 ai. Venere in calo, purtroppo. Pregoci da una settimana molto stressante. Avrete bisogno di qualcosa di veramente accattivante per svegliarvi dal vostro retargo. Cioè? Invitate la vostra partner a casa. Fatele entrare e non esitate ad inserirlo. Che cosa? Un DVD di quelli molto sexy. Dediti alla scoperta di nuove esplorazioni. Capito come? Sì, sì. Quando esce una gioca di... Esatto, nel scenario graphic, avvicinatevi a lei e iniziate a convolgerla sempre di più. Munitevi di creme ed oli profumati e trasformatevi così in un super detective Conan pronti ad affrontare nuove avventure. Conan! Ti senti un po' Detective Conan? Io sì, 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 sì. Io sì, io mi stai scrivendo. Io anche... Come si chiama Detective? Conan. O Conan? Conan. Il barbaro. Il barbaro, sì. Vabbè, abbiamo capito, insomma. Far entrare le persone a casa e basta. Esatto. Esatto. Certo che un oroscopo completamente fuori di testa, va bene. Grazie, Maga Flo. È bello sentirti. Grazie a voi, ragazzi. È bello? Anche per me. Anche per me. Anche per me. Ci vuoi dare una citazione delle tue? Dai. Visto che sei una donna di immensa cultura? Eh, no. Dai, dai. Ecco, il sesso è bello in ogni luogo. Eh, lo so. Alla faccia della dursa. È bello. In ogni luogo. E io l'applauso. Brava! Ciao, Maga Flo. Vabbè, sei fatto in tre, ovviamente. Bene. E con i gusti suoi chiudiamo. Ciao, Maga. Ciao, ragazzi. Ciao. M2O. Un mondo allo stato puro.